Dunque, ricapitolando, la questione sarebbe che ogni cosa succede all'interno di un contesto. Il contesto nel quale stiamo vivendo la situazione pandemica è un contesto psicosociale che fa emergere quella pandemia sommersa, pervasiva, che ha la pandemia emotiva, sorretta da un'ipersofia razionale e quindi da una manipolazione della parte più vera di noi stessi. Il buon Chomsky ha dedicato la vita allo studio della manipolazione del potere. E ricordiamoci, manipolazione del potere non vuol dire semplicemente cattivi sui buoni. La manipolazione del potere riguarda tutti noi. Quanto più siamo identificati con le nostre emozioni, quanto più su personalità ci manipolano, vogliono avere potere su di noi, potremmo dire. Ovviamente anche a livello sociale, chi ha un certo potere, quindi i mass media, quindi i governanti, i politici, la scienza, le multinazionali, attuano strategie manipolative per ottenere quello che vogliono, come tutti, come tutti, ottenere quello che vogliono. Se uno è attaccato al denaro, al successo, al potere, cercherà di agire per ottenerlo. E Chomsky ci ricorda quali sono le principali strategie di manipolazione delle masse. Creare problemi e poi offrire soluzioni. Vi ricorda qualcosa? Strategia della gradualità. A poco a poco. Rivolgersi al pubblico come si rivolge ai bambini, in linguaggio molto semplice. Poche idee, pochi concetti ma chiare. Virus, vaccino. Usciremo. Arriverà Gesù bambino che ti porta i doni e sarai contento. Usare l'aspetto emotivo molto più che la riflessione. Paura. Controllo. Lotta. Combattimento. Vinceremo. Mantenere il pubblico nell'ignoranza e la mediocrità. Qualche notizia, sempre le stesse. Pensiero unico. Omologazione. Mediocrità. Ignoranza di tutte le visioni alternative. Stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità. Mascherina. Per essere buoni. Pensa all'altro. Vaccinati. Per il bene delle tue persone care. Rafforzare l'autoconsapevolezza. Tu sì che sei bravo. Che rispetti le regole. Che fai come si deve. Sei buono. Gli altri sono cattivi. Conoscere gli individui meglio di quanto loro si conoscono. Certo. Certo. So. La strategia della distrazione. Consiste nel deviare l'attenzione del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle elite politiche ed economiche. Attraverso la tecnica del diluvio. Inondazione di continua distrazione di informazioni significanti. Oggi 15.000 nuovi casi, 20 in più nelle terapie intensive, meno 30 nei letti ordinari, però ancora 400 decessi. Nel frattempo si bombardano, muoiono di fame, le persone affette da tumore non vengono diagnosticate, eccetera. La strategia della distrazione è anche indispensabile per impedire al pubblico di interessarsi alle conoscenze essenziali nell'area della scienza, l'economia, la psicologia, la neurobiologia e la cibernetica. Mantenere l'attenzione del pubblico deriva, deviata dai veri problemi sociali, imprigiognata da temi senza vera importanza. Non ti ricorda nulla. Mantenere il pubblico occupato, 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 senza tempo per pensare di ritorno alla fattoria come gli altri animali. Citato nel testo, anime silenziose per bene tranquille. E allora vediamo un po'. Entriamo nel vivo ora della nostra pandemia, più nello specifico. E incominciamo dalla narrazione sulla morte. I saggi ci direbbero La morte è la fine della nascita. La morte è un passaggio. La morte è parte della vita. Oppure con Anthony de Mello ci chiediamo se ci sia vita dopo la morte. Ma c'è vita prima della morte? Siamo vivi realmente? Vediamo un po'. A proposito di informazioni insignificanti per nascondere quelle più significanti. I morti di Covid nel mondo dall'inizio della pandemia, dati di aprile 2021, hanno superato i 3 milioni, secondo WorldMator. I decessi causati dalla pandemia, conteggiati dal sito al momento, sono 3 milioni e poco più. I contagi totali superano i 140 milioni, i casi attivi sono più di 18 milioni. In massima parte 99,4 non gravi. I restanti 107.050, pari allo 0,6%, in condizioni critiche. I decessi sono il 2%. Solo il 3% di questi ha solo positività al Covid. Gli altri hanno altre patologie. Quindi praticamente 8.000, 89.230 sono le persone morte senza altre patologie ad aprile 2021. C'è lo 0,001%. Questi sono dati che non vengono dati. Più meglio, sì, ci sono, certo, sui siti, ma altre giornali che cosa trovi? E qual è? Trattati come bambini, no? E qual è l'informazione che viene messa in prima pagina? Ancora morti. Lo 0,001%. 2% dei decessi. 140 milioni di contagi. Siamo 8 miliardi. Siamo 8 miliardi. Doviamo vaccinare tutto il mondo per 89.230 morti. Certo, poi uno dice, guarda gli ospedali come sono pieni, ma se fosse il tuo parente, se fosse il mio parente, farei come tutti. Soffrirei, elaborerei il lutto e comprenderei che era il suo momento e pregherei per lui e sarei felice che ha vissuto una vita degna e sta andando incontro al suo destino, qualunque siano le mie credenze. L'età media dei pazienti deceduti e positivi al SARS-CoV-2 è 81 anni. Al 28 aprile 2021 solo 1.312 dei 118.592 morti in Italia per SARS-CoV-2 di età inferiore ai 50 anni. 1.312. In particolare 296 di questi avevano meno di 40 anni. Di 81 pazienti di età inferiore ai 40 anni, 174 di questi presentavano gravi patologie preesistenti, patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete e obesità. Questo è un dato di una ricerca su 7.199 dei ceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Le cartelle cliniche sono inviate ai tuttori di sanità dagli ospedali secondo tempistiche diverse. Il campione quindi di tipo opportunistico rappresenta solo i decessi in soggetti che hanno avuto necessità di ricovero. E le regioni sono rappresentate cercando di conservare una proporzionalità rispetto al numero dei decessi. Il numero delle patologie osservate in questa popolazione è di 3,6. Solo 214 pazienti presentavano zero patologie, quindi il 3%. L'11% ne presentava una. Il 18% ne presentava due. Il 67% ne presentava tre. Morti di Covid. E veniamo a questa altra narrazione sull'India, povero paese in ginocchio per la pandemia. L'India al 25, quindi al 20 maggio, conta poco più di 26 milioni di contagi, di cui 291.000 morti. In Italia i contagi sono 4.200.000 circa, 125.000 decessi. L'India è una popolazione di 1.392.178.276 persone. L'Italia 59.258.000. Quindi i contagiati in India sono proporzionalmente 4 volte di meno e i morti sono 11 volte di meno. Mascherine e distanziamento sociale. Forse c'è qualche cosa d'altro anche. E a proposito di notizie e di selettività delle notizie, Oggi sono morti 14.000 bambini di fame, oggi e anche domani, e anche dopodomani, e anche dopodomani ancora. Perché non ce lo dicono? Sono 690 milioni le persone denutrite, secondo i dati dell'OMS. Sono 144 milioni i bambini che soffrono di arresto alla nascita. Sono 47 milioni quelli che soffrono di deperimento. Sono 5,3 milioni i morti prima dei 5 anni. Oggi sono morte oltre 23 milioni di persone per inquinamento. Oggi e anche domani e anche dopodomani. Il rapporto OE rivela 630.000 morti l'anno per inquinamento. L'inquinamento atmosferico è all'origine dei combustibili fossili e responsabile di una morte prematura su 5 in tutto il mondo. 8,7 milioni di decessi nel 2018. Come mai? Non ce lo dicono. E' più importante? Sono più importanti i morti di Covid che non è Covid? Oggi sono morte 8.000 persone per alcol. Oggi e anche domani e anche dopodomani. Ogni anno 3 milioni di morti nel mondo. Oggi sono morte 38.000 persone per cattiva alimentazione. Nel 2017 quasi 11 milioni di persone, più della metà delle quali con più di 70 anni, ha perso la vita per colpo di una dieta povera. Eccesso di alimenti grassi, bevande zuccherate, scarsità di cereali, frutte e verdure. Nella quasi totalità dei casi, 9,5 milioni di decessi sono avvenuti per cause cardiovascolari. La restante parte per tumori, diabete e malattie renali. Com'è che non è vietata la vendita e la commercializzazione e la pubblicità del junk food? Oggi sono morti anche 600 persone per malattie cardiovascolari, 500 per tumori, 150 per patologia respiratoria, 189 per patologia nosocomiale. Oggi, come ogni altro giorno, il totale è superiore di 2.000 persone. Ce l'hanno mai comunicato? Ce ne siamo mai occupati? Da vicino? Siamo così insensibili ed egoisti da non preoccuparci delle 2.000 persone che sono morte oggi? Cosa abbiamo fatto per loro? Morti per conflitti a fuoco. Oggi sono morti 500 persone per conflitti a fuoco. Nel 2018, 193.000 persone sono morti in Africa, Asia e Medo Oriente per conflitti a fuoco. Chi vende le armi lo sappiamo bene. E perché non si smette? Posti di lavoro. Sapete che il World Food Program ha vinto il Nobel per la pace nel 2020 per i suoi sforzi per contrastare la fame e per essere determinati negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma. Solo che il WFP è un'agenzia dell'ONU che riceve i soldi, che si occupa di sfamare le popolazioni e che riceve i soldi dai governi. Fornisce assistenza alimentare a circa 100 milioni di persone in 88 paesi e sono i governi su base volontaria che finanziano. Sapete quanti governi finanziano su tutti quelli che ci sono al mondo? 60. Nel 2018 in tutto sono stati raccolti 7,2 miliardi dei quali 2,5 dagli Stati Uniti e 1,1 dagli Unione Europea. Invece lo Stockholm International Peace Research Institute ha pubblicato un report dal quale risulta cosa spende uno Stato per le spese militari. Nel 2018 alla difesa i vari governi hanno destinato 1822 miliardi di dollari. Quindi 1822 miliardi per la guerra 7,2 miliardi per la fame nel mondo. Non ce lo dicono al telegiornale. 8,2 miliardi per la fame nel mondo.